Come migliorare la digestione dopo un pasto pesante La sensazione di pesantezza e disagio dopo un pasto abbondante è comune, ma ci sono diverse strategie che possono migliorare la digestione e promuovere il benessere anche dopo un pasto pesante. Ecco alcune pratiche da adottare. 1. Ridurre le porzioni. Suddividere l'apporto calorico in pasti più piccoli durante il giorno aiuta a evitare un sovraccarico del sistema digestivo. 2. Consumare cibi ricchi di fibre, frutta, verdura, legumi e cereali integrali favoriscono una corretta digestione. Le fibre insolubili prevengono la stitichezza, mentre le fibre solubili regolano la velocità di digestione. 3. Bere acqua. L'acqua svolge un ruolo essenziale nella digestione, quindi è importante bere a sufficienza durante i pasti e nel corso della giornata. 4. Evitare di bere durante i pasti. Il consumo eccessivo di liquidi durante i pasti diluisce gli enzimi digestivi, rallentando la digestione. È meglio bere prima o dopo i pasti, se necessario. 5. Fare una passeggiata. Dopo un pasto pesante, una breve camminata può stimolare la digestione e ridurre la sensazione di pesantezza. 6. Limitare i grassi saturi. Alimenti come carne rossa, cibi fritti e latticini ad alto contenuto di grassi saturi richiedono più tempo per essere digeriti. Ridurne il consumo può evitare la sensazione di pesantezza. 7. Aggiungere spezie digestive. Zenzero, curcuma, finocchio e semi di cumino hanno proprietà digestive. Aggiungerle ai pasti o consumarle come tisane favorisce la digestione. 8. Masticare accuratamente. Una corretta masticazione riduce il carico sul sistema digestivo. Mangiare lentamente e masticare attentamente permette agli enzimi digestivi di lavorare in modo più efficace. 9. Evitare di sdraiarsi subito dopo i pasti. Sdraiarsi o coricarsi immediatamente dopo un pasto può ostacolare la digestione. Mantenere una posizione retta o seduta per almeno 30 minuti aiuta il cibo a muoversi correttamente attraverso il tratto digestivo. 10. Fare attenzione alle combinazioni alimentari. Alcune combinazioni di cibi possono essere più difficili da digerire. Prestare attenzione alle combinazioni può favorire una migliore digestione. 11. Utilizzare succo di limone. Aggiungere succo di limone all'acqua stimola la produzione di acido cloridrico nello stomaco, facilitando la digestione. 12. Evitare bevande gassate. Le bevande gassate causano gonfiore e flatulenza. Evitarle dopo i pasti riduce la sensazione di pesantezza. 13. Aggiungere probiotici alla dieta. Yogurt, keffi e cibi fermentati contengono probiotici che favoriscono una buona digestione. 14. Ridurre lo stress durante i pasti. Lo stress influisce sulla digestione. 14. Praticare tecniche di rilassamento durante i pasti favorisce una digestione più efficiente. 15. Evitare di mangiare vicino all'ora di coricarsi. 15. Una cena pesante prima di dormire può causare reflusso acido e difficoltà di digestione. 16. Fare una cena leggera almeno due ore prima di coricarsi è consigliabile. 17. Implementare queste pratiche può favorire una migliore digestione e ridurre la sensazione di pesantezza dopo i pasti. 18. Esperimenti con queste abitudini e adotti quelle che funzionano meglio per te per migliorare la salute digestiva complessiva. 19. Parole chiave. 20. Digestione. 21. Pasto pesante. 22. Fibre. 23. Acqua. 24. Attività fisica. 25. Grassi saturi. 26. Spezie digestive. 26. Masticazione. 27. Posizione. 28. Combinazione di cibi. 29. Succo di limone. 29. Bevande gassate. 29. Probiotici. 30. Stress. 30. Orario dei pasti.